punto al bronzo eccoli i puledri della categoria yearling eccoli i puledri della categoria 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 Grazie a tutti. 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 E MGR Sheer è il quarto, il top five che entra in campo per la premiazione come top five. E allora, 4 punti per il top five MGR Sheer, 6 punti per la medaglia di bronzo, 12 punti per la medaglia d'argento, 13 punti per la medaglia d'oro. Alla premiazione abbiamo sempre... Il comitato organizzata in Italia. Claudio Mazza, Anica in attesa di consegnare i trofei vi leggo le scelte della giuria sempre in ordine dall'oro, argento e bronzo per il signor Aeschbacher 49 41, 39 45 per il signor Smith Graham 49, 39 45, 41 abbiamo Alicia Rawi 45, 49 39, 41 e infine per la signora Woodhouse 45, 41 49, 39 ed ecco che si consegna il premio Anica di 1000 euro per M.G. El Rashid figlio di F.A. El Rashid e G.V. La Première proprietario e allevatore M.G. Arabians M.G. El Rashid Top 5 Yearling Maschi 2018 Medaglia di bronzo per Baif Baida è Margherita Cracchiolo che vince in 1000 euro come proprietaria e allevatrice di questo figlio di Fadi Al-Shakab e Baida medaglia di bronzo Diffanos Argento per il numero 49 Amani Moniscione Nasce da Jay Mardane al Maltiglio Azienda Agricola Buzzi Giancarlo Proprietari allevatori Si aggiudicano i 1000 euro del Monte Premi Anica Amani Moniscione ha totalizzato 12 punti Due prime scelte per i giudici Ashbacher e Graham un secondo posto per il giudice Sharawi quindi due punti e due scelte bronzo e la medaglia d'oro va a Michelangelo Regalis il numero 45 S.A. Faetzinbad per Nashirabai Chawina di Re Pietro a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.